Ancora Giorgini, deve inventare un gran pallone per Cagliecon, aggan Camsic, zona tiro, prova il sinistro, Marec Camsic, il vantaggio del Napoli, apre il secondo tempo, lo Slovacco porta avanti il Napoli, 1-0. Per saltare anche i turrespe, dentro, Aduric, con il destro, la libertà di agganciare e poi di battere, Raffaele ha pareggiato l'Atletic. La pressione di Aduric, il pasticcio. 2-1, un gol regalato. Muniain, palla dentro, Unai Lopez, cerca Duric, che è partito in posizione di fuorigioco, secondo me non se costa per la 3-1. Per l'Atletic di Bilbao, Ibai Gomez, l'uomo che segna sempre quando entra in corsa. E il Napoli, in pochi minuti, ha dato una grande occasione. Giorginho, insegna e colpetto, cerca Zapata, vince il contrasto. Zapata si porta il pallone sul destro, non calcia col destro, viene fermato dai... Per l'Atletic di Bilbao, in pochi minuti, non calcia col destro, viene fermato dai... Per l'Atletic di Bilbao, in pochi minuti, non calcia col destro, viene fermato dai... Per l'Atletic di Bilbao, in pochi minuti, non calcia col destro, viene fermato dai... Per l'Atletic di Bilbao, in pochi minuti, non calcia col destro, viene fermato dai...